Ecco tutti a voi con una serie di Patrick, stagione 1, episodio 2. Bella giornata, avviva! E prende anche pure questo. Aspettiamo la camera a posto. Gatto! Ciacciazione! Vado a fuori giocare! Sì, sì, no. Vado a fuori giocare! Vado a fuori giocare! Vado a fuori giocare! Vado a fuori giocare! Sì, vi faccio! Bene!